Benvenuti in questo mio nuovo video, andiamo a vedere dove si trova la stella segreta che si sblocca completando le sfide squadra brutto La stella segreta non è ancora disponibile ma andiamo a vedere la posizione La posizione si trova vicino all'ombrello, guardate, si troverà all'incirca qua Non è ancora disponibile, forse è un bug, comunque si troverà qua la stella segreta Per questo video finisci qua, spero che ti sia piaciuto, mi raccomando iscriviti al canale per restare sempre aggiornato su Fortnite Commenti e condividi, noi ci vediamo in un prossimo video Ciao